In questo numero del Salus Tg, Empam e Lilt Roma insieme in piazza della salute per la prevenzione dei tumori. Il ministero alle regioni offrire il vaccino antimorbillo agli operatori sanitari neoassunti. Identificati i circuiti per ricordi scolpiti nella memoria. Tre giorni di visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori della pelle, del cavorale, della tiroide e del seno. Si è svolto per il secondo anno l'appuntamento con piazza della salute, l'iniziativa promossa dall'Ilteroma ed Empam per offrire prevenzione ai cittadini romani mettendo a disposizione nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II un vero e proprio ospedale da campo per visite ed esami e con l'arrivo dell'estate particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del melanoma. La prevenzione dei tumori cutanei parte soprattutto dall'attenzione di ognuno di noi a quello che abbiamo sulla pelle. Quindi controllarci, autocontrollarci nelle formazioni che la nostra pelle produce in continuazione soprattutto nei e piccole cheratosi che possono anche evolvere verso formazioni tumorali è il primo momento. Aumentano i casi di morbillo tra medici e infermieri italiani. Per contrastarli e contro possibili focolai negli ospedali il Ministero della Salute ha diramato alle regioni alcune indicazioni operative sollecitando ad offrire la vaccinazione morbillo, parotite e rosolia agli operatori sanitari al momento dell'assunzione. Memoria d'elefante grazie a cellule e scrigno di ricordi e specifici circuiti cerebrali che maturano nel tempo. Scienziati britannici diretti negli Stati Uniti dal premio Nobel su Sumut Tonegawa sono riusciti a spiegare in che modo possiamo scolpire nella nostra mente alcuni ricordi. Lo studio dimostra l'esistenza di cellule speciali dette engram di lunga durata nella parte frontale del cervello e mostra come le connessioni con le altre regioni cerebrali permettano a queste cellule di maturare via via che le nostre memorie diventano permanenti.